vabbè però se non faccio così non faccio niente pure il presidente me lo dice pure c'è il marziglio me lo dice eh sì grazie basta che clicchi fammela come la vuoi le vuole aiutare tu si vedono se l'alzi guarda qua è veramente il posto più brutto che mi ha incontrato ma tu mi devi ascoltare ma già stai pari a partire? ma sì qua che foto fai? è una foto del cazzo? non stavo nel terreno ah stiamo a far pipì dopo l'arresta video